Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Fermato per un controllo mentre era a bordo di uno scooter nel quartiere San Cristoforo, è stato sorpreso con 12 grammi di cocaina in pietra e oltre 12.000 euro in contanti. Nella sua abitazione in via Pietro Platania i militari hanno poi sequestrato una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola cancellata corredata da un silenziatore, un giubbotto antiproiettile e 313 proiettili di vario calibro, 37 involucri contenenti varie pietre di cocaina e 69 dosi già confezionate della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di oltre un chilo. La perquisizione ha anche permesso di sequestrare 55 grammi di crack in pietra, 91 grammi di hashish, 8 involucri per oltre un chilo e mezzo di marijuana, un bilancino di precisione, una macchina per la preparazione sottovuoto della droga e 28 pizzini con nomi ed importi riferibili alla vendita e dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Il 42enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto disponendo la sua permanenza in regime di custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.